No, però, però, questa ve la devo raccontare perché veramente, eh? Allora dunque, sapete tutti che Paolo è appena tornato da un lungo viaggio dall'America Latina, no? E sapete come c'è andato? In bicicletta! Veramente! Un bel giorno si è svegliato, ha preso la bici e ha pedalato fino all'Argentina! Infatti non sapevamo se poteva essere qui alla nostra festa. Si è svegliato, ha pedalato, fino alla guerra dei fuoco... No! Verra del fuoco! Verra del fuoco, giusto? Paolo? Si. Raccontaci qualcosa che siamo tutti molto curiosi. Ma ma ha barato, ha preso il treno, è sceso, ha fatto un selfie e ripartì. Oh, scemo! Ogni fermata faceva così, dillo e dillo! E dai, raccontaci qualcosa, su! Cosa devo dire? Dovevano essere due settimane e sono diventati sei mesi, ecco, questo... Vabbè, vi dico solo che aveva l'arco per cacciare. L'arco? Ma tipo Hunger Games, ah oh! Ma che davvero? Eh? Perché stai a usare l'arco tu? Dove finisce la civiltà o cacci o peschi o muori di fame, non so se te l'hanno detto. Eh, io sto ancora con la carta di credito, pensa che troglutita! Eh, io sto ancora con la carta di credito! Eh, io sto ancora con la carta di credito! E io sto ancora con la carta di credito!